Salve a tutti e a tutte e benvenuti a questo nuovo appuntamento dei dialoghi di Pandora Rivista. Oggi parliamo di un tema di grande importanza e attualità, cioè il ruolo della finanza d'impatto e della impact economy. Ne parliamo con Giovanna Melandri che siamo molto contenti di avere qui con noi oggi. Evviva, grazie dell'invito. Giovanna Melandri è presidente e fondatrice di Human Foundation, è presidente di Social Impact Agenda per l'Italia e a livello mondiale è membro del Board of Trustees, del Global Steering Group del For Impact Investment ed è anche presidente della Fondazione Maxi, è stata ministro per i beni e le attività culturali e ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e possiamo iniziare dopo la sigla. Ecco, presidente Melandri, oggi appunto si discute molto di impact economy, impact revolution, quindi io le chiederei innanzitutto di provare a capire insieme cosa si intende con questi concetti. E poi lei ha una formazione da economista, quindi proviamo anche un po' a ricostruire come nasce questo dibattito, quali sono anche gli antefatti storici e teorici di questa discussione. grazie. Grazie. Dunque, allora antefatti storici e teorici sono molti, quando ancora non si parlava di impact come diciamo così nel gergo dell'economia e soprattutto di questo diciamo relativamente nuovo paradigma. Diciamo subito questo, diciamo subito che si comincia a parlare di impact economy, di finanza, di impatto in realtà poco dopo a cavallo della crisi, della grande crisi finanziaria del 2009. Quindi non è tantissimo, poco più di dieci anni, insomma un po' più di dieci anni e l'idea, il paradigma, la radice teorica, teoretica che c'è dietro, parte dall'analisi di quello che era successo con la bolla speculativa del 2009 esplosa e cioè parte da un fatto peraltro noto da tempo e così poi parlo anche delle radici diciamo così teoriche, culturali che non usavano la parola impact ma che di fatto diciamo derivano da una riflessione che potrei dire perde la grande battaglia delle idee negli anni 80 e 90 a favore di un liberismo in economia e che diciamo aveva invece affermato diciamo così nella scuola keynesiana, se vogliamo dare qualche puntellare questa riflessione direi che non solo Keynes ma molti economisti, pensiamo a Pigou per esempio, un economista che teorizzava la necessità di misurare le esternalità negative e positive dell'azione economica. Ecco questi sono i padri della impact economy, non la chiamavano impact economy ma di fatto sono rintracciabili secondo me da un punto di vista proprio teorico da questo punto di vista. Però torniamo a quello che è successo nel 2009, nel 2009 c'è stato il caso di Lehman Brothers e se ne è venuto giù proprio un edificio che era l'edificio di una finanza iper speculativa, non che prima non ci fosse anche una dimensione speculativa nella finanza, ma iper speculativa, vi ricordate si parlava di turbo capitalismo finanziario, iper speculativa che a un certo punto la bolla si rompe e lascia per strada milioni di risparmiatori di istituzioni finanziarie eccetera. Comincia una riflessione anche all'interno della finanza, questo è un aspetto interessante perché all'interno della finanza ovviamente comincia una riflessione, io dico sempre che uno dei padri di questa riflessione è stato Sir Ronnie Cohen, Sir Ronald Cohen che a tuttora presiede lo Steering Group for Impact Investment che prima veniva ricordato, perché ovviamente diciamo così comincia a tremano le fondamenta del meccanismo della finanza mondiale e comincia una riflessione che è accademica tra gli operatori finanziari, politica europea, fino a che facciamo un salto e arriviamo nel 2012, quindi non tantissimi anni dopo, siamo nove, dieci, tre anni dopo, anno in cui il G7, anzi il G8 perché questo ha anche una diciamo relazione con la drammatica crisi ucraina di questi giorni, il G8 perde l'adesione della Russia, non ci dimentichiamo, a proposito, non voglio aprire questa finestra perché se no non mi fermerei più, però diciamo già fu un gesto di grande differenziazione e diciamo pure di ostilità della Russia di Putin nel credo 2010-11, non sono sicurissima, ma insomma in quel periodo di uscire dal G8 e quindi il G7 a presidenza Cameron perché era presidenza inglese, forse una delle ultime cose non negative che fece Cameron prima di indire quel disastroso referendum sulla Brexit, sto cercando di contestualizzare anche un po' storicamente, istituisce presso il G7 questa task force che si chiamava Social Impact Investment Task Force. Io vengo delegata dall'allora governo Monti e poi Letta a rappresentare l'Italia in questa task force perché avevo lanciato Human, cominciavo a lavorare attorno al progetto di Human nel 2008-2009, molto carsicamente, ma insomma l'avevamo già presentata. Devo dire anche, visto che insomma questa è una chiacchierata tra noi, una conversazione anche come dire così libera che non mi posso dimenticare come in quegli anni, insomma parlare di finanza d'impatto, parlare di impact economy era ostrogoto, io uso sempre questo termine perché eravamo abituati a un pensiero binario rispetto a una finanza che per definizione era scollegata dall'economia reale da un lato e dall'altra tutta la dimensione delle politiche pubbliche orientate alla generazione di valore sociale come politiche appunto pubbliche che non potevano e non avrebbero potuto coinvolgere finanza privata negli obiettivi. Come voglio cercare di sinteticamente raccontarvi invece la sfida dell'economia ad impatto, che mi piace più parlare di economia ad impatto, non solo di finanza ad impatto, è proprio quella di mettere al centro della produzione del valore economico un fattore che se volete è un fattore di valore intangibile ma fondamentale. Potrei ancora dire così, qualsiasi economista o qualsiasi studente di economia aziendale o di economia finanziaria al primo anno di università impara, imparava, forse adesso sta cambiando anche la pedagogia da questo punto di vista, che l'obiettivo di un investimento era l'ottimizzazione di due fattori, l'ottimizzazione del rischio, un investimento comporta un rischio e l'ottimizzazione del rendimento. Ottimizzare questi due fattori significa operare una scelta informata dentro il sistema, naturalmente siamo nel mondo dell'economia di mercato, dell'economia capitalistica. Ecco, in realtà il paradigma della impact economy è un paradigma, io dico che è il paradigma che consente al capitalismo una exit strategy, nel senso che il capitalismo ha vinto, ha vinto ovunque, ha vinto perfino in Russia, no? In realtà è un capitalismo oligarchico, ma ha vinto e sta generando grandissimi danni. Cioè la sindemia dentro cui siamo, di cui insomma stiamo parlando ormai da tempo, che è sanitaria, che è sociale, che è ambientale, adesso è perfino militare, ha bisogno di orientare i flussi di scelte su mercati finanziari in altre direzioni. E queste direzioni come si definiscono? Si definiscono non con l'ottimizzazione del rischio del rendimento, ma l'ottimizzazione del rischio del rendimento e dell'impatto che generano. Ecco perché la parola impatto è così importante, perché alla fine nella, diciamo, idea dell'economia di impatto, adesso dico una cosa un po' provocatoria, non mi prendete la lettera, perché su questo c'è, cioè alla fine quello che importa non è tanto se un'organizzazione economica è profit o non profit, quello che importa è la generatività e l'impatto che produce, ok? Poi parleremo dell'ISG, di tutte, diciamo così, adesso la definizione, quindi per rispondere insomma in maniera anche sintetica a questa domanda che in realtà meriterebbe un lungo escursus, però io direi così, che il paradigma dell'impact economy deriva da una scuola economica di pensiero che purtroppo negli anni 80 con il Washington Consensus perse. Io sono figlia di quella, di quello studio, io so, io ho studiato con Federico Caffè, Federico Caffè a un certo punto è pure scomparso come Ettore Majorana e noi siamo andati a cercarlo, io facevo parte dell'ultima covata, diciamo così, dei suoi alunni, un grandissimo umanista, un grandissimo economista, insomma io ricordo le lezioni all'università con Caffè che ci diceva questa ondata, diciamo così, di pensiero liberista in economia, ci sta sfrangendo, sta vincendo, ecco io credo che stiamo tornando, infatti da un certo punto di vista, adesso questa è una piccola annotazione personale, nella mia biografia è come se io tornassi, poi in mezzo per quanto riguarda la mia biografia c'è stato tutto l'impegno nell'ambientalismo che anche ha una relazione fortissima col tema dell'impact economy, ma poi ci torniamo. Ecco grazie, mi sembra anche molto utile partire, noi come Pandora rivista ci piace sempre anche partire da una contestualizzazione anche storica che permette poi di inquadrare bene i fenomeni di cui si parla, quindi grazie appunto per aver iniziato la nostra discussione in questo modo. Ecco, una parola chiave che nel periodo che lei ha ricordato, ovvero dalla crisi del 2008 in poi, abbiamo iniziato a sentire sempre più di frequente il termine sostenibilità, che a volte è diventato anche un po' una parola d'ordine che viene usata in tutti i contesti e appunto in ambito finanziario un altro termine che appunto si è diffuso progressivamente è quello degli investimenti ISG. Ecco, da questo punto di vista c'è una differenza rispetto all'approccio della finanza d'impatto e poi ci sono degli strumenti specifici come i social risultati all'impact bond che a suo avviso sono particolarmente utili che possiamo introdurre appunto in questa discussione. Allora, il termine sostenibilità diciamo che qualifica la dimensione dello sviluppo è un termine anche lì che dobbiamo tornare molto indietro, dobbiamo tornare forse appunto non a caso alla storia della, come dire, della teoria ecologista, dell'ecologia, cioè dobbiamo tornare alle riflessioni proprio storiche del club di Roma e forse è anche indietro, l'ecologia ha circa 100 anni di vita oggi da un punto di vista proprio teorico, però diciamo che il grande sforzo multilaterale che inizia con la conferenza di Rio de Janeiro nel 92, quindi parliamo di 30 anni fa, a cui io partecipai coordinando la delegazione delle organizzazioni non governative a Rio, diciamo pone il termine dello sviluppo sostenibile, quindi la parola sostenibilità aggettivizza il sostantivo sviluppo, come fulcro da cui poi parte tutto il processo di definizione degli obiettivi sia dal punto di vista diciamo della crisi climatica che era già tutta nota perché nel 1992 il rapporto, il primo rapporto dell'IPCC, dell'Intergovernmental Panel for Climate Change, era già stato pubblicato, io ricordo la conferenza di Bergen prima di Rio dove ero presente, come osservatrice lavoravo in lega ambiente all'epoca e diciamo così che le previsioni degli scienziati sui cambiamenti climatici del 89, 90, 91, 92 conferenza di Rio sono stati confermati e oggi costituiscono il substrato tecnico scientifico alle lotte contro il cambiamento climatico. Quindi se tu mi chiedi la parola sostenibilità io la aggancerei diciamo così a questo processo. Ora la finanza sostenibile e il paradigma dell'impact economy, c'è una differenza fondamentale, provo a essere molto come dire quasi un po' scolastica da questo punto di vista. Allora ISG, guardiamo il mercato delle masse finanziarie investite nel mondo oggi. Circa, non mi citate letteralmente, ma insomma tra i 130 e i 140 trilioni di dollari di masse finanziarie investite nel mondo. Di queste oggi, anche qui dati che ballano tra i 35 e i 40 trilioni di dollari, si auto, la parola decisiva è autodefiniscono ESG, Environment Social Government, ESG compliant, cioè si autodefiniscono finanziamenti che non danneggiano, cioè do the least harm, cioè non danneggiano l'ambiente e la società ESG, le diciamo così forme avanzate di governance dei sistemi economici. Io dico sempre che se questo fosse vero, 40 trilioni di dollari su 130-140, però sono tante risorse, probabilmente non avremmo tanti dei problemi che invece nel mondo oggi sussistono. Qual è la differenza? Poi arriviamo anche l'Europa perché l'Europa, devo dire, con una leadership anche su questo, io penso che questo è un momento della storia del mondo in cui l'Europa ha una leadership sul tema della transizione ecologica, sul tema della transizione energetica, che non sono esattamente la stessa cosa, sul tema della giustizia sociale, dell'inclusione sociale, sul tema delle parità di genere, di generazione, di territorio, sul tema della sostenibilità in senso lato, che ha esteso anche alla definizione di questi strumenti. Infatti, per me, se la definizione di ESG è estremamente, come posso dire, generica sul piano mondiale, l'Europa con un regolamento, anche qui diciamo una cosa specifica, se no l'Europa con un regolamento del 2018 e con dei decreti di attuazione che stanno definendo le tassonomie per la E, per la S e per la G, sta definendo precisamente che cosa vuol dire. Rimango su questo per chiarirla bene un minuto, e ha introdotto una classificazione molto interessante, perché si può essere, ha individuato l'articolo 7, l'articolo 8 e l'articolo 9, che sono gli articoli che precisano che cosa vuol dire essere ESG negative screening, adesso lo spiego, ESG positive screening e impact, finanza d'impatto. Allora, ESG negative screening significa semplicemente che quell'investimento, diciamo così, non genera più danni di quelli che mediamente in quel sistema, in quel mercato, in quella dimensione si conoscono, ok? Quindi, diciamo così, do no more harm. Articolo 7. Articolo 8 di questo regolamento, sto parlando adesso un po' tecnicamente, però per far capire la differenza. Articolo 8 invece è positive screening, ESG positive screening, cioè quell'investimento finanziario, quell'investimento è sopra la media dell'impatto ambientale, energetico, sociale e di governance degli investimenti mediamente. L'articolo 9 è la finanza d'impatto e l'economia d'impatto, che è quella a cui noi dobbiamo tendere, perché non basta più non causare danni, cioè bisogna semplicemente non, cioè bisogna produrre impatti positivi, non ridurre il danno. È la logica della riduzione del danno, quella della cultura ESG, soprattutto quando era, diciamo così, lasciata a una autovalutazione. Adesso con l'Europa questo regolamento sta cominciando a imporre a operatori finanziari, economici e europei di dichiararsi con più precisione in che mondo stai operando. E lì c'è anche tutto il discorso e anche la polemica che si è aperta sulla tassonomia della E, dove c'è stata la questione se considerare tra gli investimenti, quindi E, ambiente, energia, se considerare gli investimenti nel gas, certamente non nel carbone, certamente ma nel gas e nel nucleare come, diciamo, accettabili per lo screening ambientale e energetico. Io dico la mia su questo. La mia è, io sono una riformista, penso che bisogna fare le cose un passo alla volta e penso che la regolamentazione ESG a livello europeo è servita moltissimo per spingere gli investimenti verso le energie rinnovabili. Non voglio con questo dire che non si debbano fare investimenti anche nel gas. Per esempio io sono, come dire, arrabbiata con quegli ambientalisti italiani che hanno impedito all'Italia di fare i rigassificatori negli anni passati. Perché nella transizione è impensabile, oggi, la transizione senza il gas. Non parliamo adesso del tema dipendenza dal gas russo e quindi, diciamo, emancipare l'Italia da non solo, diciamo, alla fornitura di un dittatore tirannico ma in generale. Però la transizione è una cosa, l'obiettivo, diciamo, l'approdo è un altro. E io penso che la regolamentazione della finanza ad impatto debba servire a vedere all'approdo. e quindi per me il gas, in quella definizione, il gas ci deve essere ma secondo me non dovrebbe far parte di quella tassonomia. Invece gli investimenti ad impatto, articolo 9 dell'Unione Europea, del regolamento, hanno proprio un'altra filosofia. Cioè, in un investimento impact, articolo 9 del regolamento dell'Unione Europea, è fondamentale la intenzionalità dell'obiettivo e dell'impatto sociale, ambientale, di parità di genere, di parità di territorio, che quell'investimento vuole realizzare. Ecco, questa è la differenza. Quindi gli ESG sono non faccio danni o sulla media o sopra la media. Gli investimenti ad impatto per l'Europa, l'articolo 9, sono invece definiti come investimenti che intenzionalmente, quindi misurabilmente, sono intenzionali, sono misurabili e sono addizionali rispetto all'impatto che vogliono generare. Ecco, grazie, molto chiaro. E appunto da questa anche ricostruzione abbiamo visto come già anche a livello europeo, è stato ricordato il regolamento del 2018, c'era un forte orientamento in questa direzione. Ecco, io volevo chiedere da un lato come la pandemia ha inciso su tutto questo e se in un qualche modo sono create le condizioni per una ripresa che sia in un qualche modo trainata anche da un focus su l'impact economy. E dall'altro, quale, ovviamente data apposta l'incertezza chiaramente in cui siamo immersi, quale possono essere le valutazioni che possiamo fare su come la crisi drammatica che stiamo vivendo in questi giorni potrebbe influire su questo percorso? Ma io guarda, credo che noi possiamo uscire dalla pandemia che io chiamo sempre sindemia, perché mentre stiamo vivendo la pandemia, la crisi sanitaria che non è ancora finita, insomma, e prima del conflitto e dell'aggressione brutale di Putin in Ucraina, insomma, non è che il cambiamento climatico è svanito, non è che il tema della giustizia sociale è stata risolta, quindi noi siamo dentro una fase di crisi molto profonda. Ancora una volta direi che l'Europa ha indicato la strada, nel senso che lo sforzo straordinario che è stato fatto in Europa con il recovery plan, dentro la logica della next generation, della transizione energetica e ambientale, ha, come dire, definito la cornice di quello che dobbiamo imparare dalla pandemia sindemia. In più, negli strumenti del PNRR ci sono, cominciano a esserci, secondo me non ancora abbastanza, però cominciano ad esserci delle logiche di indicazione e individuazione degli impatti e dei risultati. Faccio un esempio. Normalmente, nei fondi strutturali o negli investimenti che derivano dalle risorse europee, la dico un po' semplificata, ma, insomma, quello che l'Europa vuole è, come dire, la ricevuta di spesa. Cioè, io ho speso queste risorse per fare queste cose. Adesso, sul PNRR non basta, perché il PNRR è costruito per obiettivi. E la parola obiettivi, in inglese, results, pay by result, è una dei, proprio, dei cardini teorici dell'economia di impatto. Cioè, quello che interessa è il risultato e l'impatto. Non mi interessa sapere quanto hai speso, o meglio, non mi interessa sapere solo quanto hai speso. Mi interessa, Europa, sapere, tu Italia, che obiettivi e che risultati hai prodotto con quella spesa. Quindi, dentro la logica del PNRR c'è già, in una prima misura, la logica del pay by result e della definizione dell'impatto. È sufficiente? Non credo, non ancora. Ci sono, diciamo, nel paniere degli strumenti della finanza d'impatto, ne citavi uno dei social impact bonds o degli outcome funds, possiamo parlarne anche in italiano, cioè dei fondi orientati a dei risultati. È sempre questo il termine, cioè una finanza orientata a dei risultati. Facciamo degli esempi per farci capire, no? Cioè, che cos'è un social impact bond finalizzato a ridurre il tasso di recidiva di un carcere oppure il drop-out scolastico di un territorio o qualunque obiettivo sociale si voglia raggiungere. È uno strumento finanziario che associa l'investimento privato a un obiettivo, a un indirizzo di politica pubblica, in cui le risorse pubbliche vengono spese ed erogate solo a risultato raggiunto. Quindi, diciamo così, è un meccanismo di ingenerizzazione e questo direi che è proprio l'altro paradigma chiave della impact economy, cioè io pubblico cerco di ingenerizzare modelli di cooperazione tra risorse private, risorse pubbliche e terzo settore. Facciamo un esempio. Un Sib orientato a ridurre il tasso di drop-out scolastico di un territorio. Il comune o l'ente pubblico o lo Stato individua l'obiettivo. Dei privati allocano delle risorse. Degli operatori del terzo settore sono erogatori di servizi, con i bambini, con lo sport, con i meccanismi di recupero del drop-out scolastico. Il privato anticipa quelle risorse e sa che sta assumendosi una parte di rischio. Questo è il punto fondamentale, perché se quel risultato non fosse raggiunto, lui non avrebbe indietro il capitale investito, né con un rendimento né senza. Se l'obiettivo è raggiunto, il settore pubblico restituisce il capitale all'investitore e poi lì ci sono modelli diversi. Può essere con un rendimento, con un rendimento medio, cioè diciamo lì c'è la negoziazione e la trattativa. E il vantaggio per il terzo settore, per l'operatore sociale, è che non deve costantemente in convenzionamento diretto chiedere al pubblico delle risorse. Sa di avere per qualche anno questo investimento a sua disposizione, però sa anche che il suo lavoro sarà giudicato in base al risultato. Cioè non basta in convenzionamento diretto finanziare questo operatore sociale o un altro, ma sarà giudicato e valutato in base a quanti bambini ha sottratto al dropout scolastico. Rimaniamo in questo tema. Questo è il meccanismo di un social impact bond o comunque di un meccanismo di finanza d'impatto. Come si capisce? È un meccanismo che da una parte è, come dire, sfidante per il pubblico, per come spendiamo le risorse pubbliche. In questo senso il PNRR può essere un'occasione molto importante, cioè spendere, erogare risorse pubbliche finalizzandole non tanto all'input ma all'outcome. Quindi ai risultati e ai cambiamenti generati da quell'investimento. Ecco, grazie. Tra l'altro appunto su questo tema del PNRR noi abbiamo, ci siamo molto soffermati, abbiamo dedicato anche un numero, l'ultimo numero di Pandora rivista che alla lettura appunto di questa sfida che il nostro paese si trova di fronte, è stato dedicato. L'altro tema appunto su cui si è soffermata è un po' questa questione del rapporto appunto tra la finanza e gli altri attori, le istituzioni, il privato, il terzo settore. E quindi mi pare di capire si delinea anche un nuovo modello di relazione in cui ciascuno di questi attori dà una parte di contributo che permette di costruire appunto un modello complessivo secondo cui tutto questo può funzionare. Ecco, per concludere, in un qualche modo visto che il tema della cultura è un altro diciamo dei suoi interessi, insomma, un altro dei fili conduttori in un qualche modo della sua azione, io le chiederei appunto quale può essere appunto il ruolo della cultura all'interno di questo cambiamento, perché appunto mi pare che ci sia una parte importante di cambiamento culturale che è richiesto a tutti gli attori. Quindi come si fa in un qualche modo a diffondere questa nuova cultura dell'impatto in maniera trasversale? Ma allora, la valutazione d'impatto di un investimento presuppone una, diciamo, uno strumento che appunto è la capacità di misurare il valore guardando anche, come dire, agli intangibili, cioè quali sono gli intangibili, gli effetti generativi o non generativi. Infatti da un punto di vista teorico, concettuale, filosofico, diciamo, gli strumenti per la valutazione d'impatto che rimango ancora un attimo su Human, che utilizziamo a Human, sono strumenti in cui sempre bisogna tradurre un intangibile, una dimensione qualitativa e una dimensione quantitativa, perché poi invece è importantissimo per un investimento avere il dato quantitativo. E' qui che entra la dimensione culturale. La dimensione culturale in senso lato, innanzitutto, perché l'investimento in cultura genera ricchezza civile, ricchezza spirituale, ricchezza condivisa, anche ricchezza economica e occupazionale, però insomma, e questo è un intangibile che però qualifica un'idea di società. Poi mi sento di dire una cosa un po' specifica sul Maxi da questo punto di vista, perché è un po' la palestra in cui stiamo provando a portare a terra alcuni di questi concetti. Noi abbiamo guardato ancora una volta all'Europa e al progetto che ha lanciato la Ursula von der Leyen della New European Bauhaus come l'area di sfida, di sperimentazione, cioè dove artisti, architetti, il Maxi è il Museo Nazionale d'Arte Contemporanea, quindi ha, diciamo, nel suo perimetro di azione sia architetti che artisti, designers, ma intellettuali, scienziati, ingegneri informatici. Ecco, probabilmente oggi la sfida della European Bauhaus che, diciamo, si fonda su un'idea di rigenerazione delle nostre città, le città sono la nicchia ecologica di una specie che è l'Homo sapiens e quindi sono le città che sono il grande laboratorio della sostenibilità, dell'impatto, della generatività, dell'investimento e le istituzioni culturali hanno un ruolo enorme, intanto perché io penso, io sono da questo punto di vista molto, molto veramente onorata e privilegiata di lavorare anche a contatto con gli artisti, perché gli artisti in tante circostanze sono dei, come dire, immaginano, prototipizzano dei futuri che non ci sono ancora e quindi quando hai l'artista che lavora con lo scienziato, l'artista che lavora con, poi adesso c'è tutto il mondo, non apro questa porta perché se no non finirei più, ma tutto il mondo dell'intelligenza artificiale, cioè del rapporto tra algoritmo e creatività, cioè e quindi nella New European Bauhaus veramente il tema è costruire questi laboratori di discipline collettive e il tema è veramente far lavorare lo scienziato, l'ingegnere informatico, l'urbanista, l'architetto, l'artista insieme per dei disegni di rigenerazione urbana, ovviamente sostenibile con, diciamo così, il valore dell'impatto sociale e ambientale a monte. Ecco, io penso che, insomma, penso che volendo lanciare uno sguardo anche appassionato, appassionante e positivo del futuro, questi sono i modelli di design e questo è il luogo dove io credo da cui dovrebbe venire fuori anche la nuova politica, certo, però stiamo facendo questa chiacchierata oggi, turbati, turbatissimi dai fatti drammatici che stanno coinvolgendo un paese nel cuore dell'Europa e quindi vorrei anche aggiungere una riflessione su questo perché io penso che la impact economy sia, come dicevo prima, l'unica exit strategy possibile per l'economia di mercato che voglia produrre quei risultati degli obiettivi, dei global development goals, eccetera. Penso anche però che dobbiamo renderci conto che la democrazia e le democrazie per quanto imperfette e sono imperfette, quindi come dire, sono terreno di miglioramento perpetuo però oggi sono, diciamo, la regolazione dei rapporti civili e sociali migliore che abbiamo e ce ne stiamo accorgendo troppo tardi. In questo c'è stato un torpore anche dell'Europa democratica che non si è fatta carico anche di una relazione con chi nei paesi dell'ex Unione Sovietica, ormai vale la pena chiamarli così perché la dottrina di Putin a questo mira e quindi quelle spinte verso la democrazia, verso la libertà di espressione, di opinione, di politica culturale che promane, proviene dalla Russia e da altri paesi, noi la dobbiamo ascoltare. Io l'ascolto con il cuore, diciamo, straziato perché abbiamo il grande vantaggio, il grande privilegio di vivere comunque in assetti democratici in cui tutte queste riflessioni e anche la impact economy sono possibili. E posso finire con questa battuta, io ricordo nel 1994 andai a trovare a Mosca Gorbachev, erano passati due anni dalla conferenza di Rio e Gorbachev era stato già bloccato nella sua strada riformatrice da Yeltsin. Aveva istituito questa fondazione che si occupa di ambiente da tanti anni e aveva invitato un gruppo di ambientalisti di tutto il mondo. Io ebbe il privilegio di rappresentare l'Italia. Intanto era già costretto quasi dentro questa fondazione da cui non poteva uscirne. E poi lui ci disse, lo ricordo proprio con grande chiarezza in questi giorni, mi torna alla mente, nel 1994, ci disse non so se riusciranno a fare la perestroica, cioè diciamo così la graduale trasformazione di un'economia di Stato in un'economia libera di mercato, ma so per sicuro che non faranno la glass notes, cioè non edificheranno istituzioni democratiche con tutta la gradualità che è necessaria per un processo del genere. Ecco oggi queste parole ancora mi tornano in mente. Grazie. Grazie davvero a Giovanna Melandri per questo percorso, per questo insieme di riflessioni che da un lato ci hanno permesso di capire appunto cos'è l'impact economy, quali sono le prospettive che questa trasformazione può portare con sé, ma anche di ricordare appunto il contesto in cui viviamo che non possiamo dimenticare. Grazie a tutti voi per averci seguito, per aver appunto visto, ascoltato questa puntata e vi do appuntamento al prossimo dialogo di Pandora Rivista. Grazie. Grazie per aver guardato questo dialogo, se l'avete apprezzato lasciate un like e se volete essere aggiornati su tutti i nuovi video di Pandora Rivista iscrivetevi al canale, è anche un modo per supportare il progetto. Grazie. Grazie.